Ah ah ah, bacini, bacetti e bacioni, e con questo ti credo che poi si va a dimenticare Francesco Totti. Signori miei, si parla nuovamente di Ilari Blasi che praticamente è stata fotografata, è stata pizzicata, è stata beccata, come lo vogliamo dire, in compagnia del suo amore. Si chiama Bastian e non Sebastian e la foto del bacio mostra la nuova vita della conduttrice. Ebbene sì. Dopo innumerevoli pettegolezzi, Ilari Blasi è davvero andata avanti e ce lo sta dimostrando. Da tempo ormai ha preferito il silenzio, senza dire più nulla in maniera pubblica, di Francesco Totti oppure anche di Noemi Bocchi. Ma la sua vita adesso è pronta a colorarsi di rosa e ha un nuovo amore, ed è ufficiale questo, eh? E lo scoop è stato anticipato dal settimanale chi? Il settimanale è quello diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è innamorata e le foto sono inequivocabili, non abbiamo dubbi. Al suo fianco c'è Bastian, un imprenditore tedesco. Signori, ebbene sì. Insomma, per chi vuole delle informazioni in più, sarà in uscita il settimanale chi per mercoledì 30 e che intanto ha condiviso delle foto in anteprima di Ilari Blasi con il suo nuovo amore. E dopo la notizia della separazione, la conduttrice non si è mostrata in compagnia di nessuno e ha preferito mantenere una linea stretta riservata, senza lasciare troppo trasportare così dai pettegolezzi. Ma per la Blasi è tempo di andare avanti e di non soffermarsi più sul passato, perché è stata infatti sorpresa dai fotografi di chi all'aeroporto di niente di meno che Zurigo, e le foto ovviamente non lasciano spazio ad alcun dubbio. E ci sono abbracci, e ci sono baci, ha tanto affetto, e Bastian è lui il nuovo amore della sua vita. Il settimanale ha aggiunto che la coppia ha trascorso un weekend all'insegna del romanticismo in un hotel luxury con centro benessere, e possiamo immaginare che cosa potrebbe essere scattato. Dalle immagini in anteprima si nota fin da subito un aspetto in particolare, cioè la felicità e la radiosità della Blasi, ma adesso è rilassata, è coinvolta nuovamente, ed è in grado di lasciarsi andare. Lei che non ha mai ceduto alla narrazione della donna tradita e ferita, ma diciamo che adesso è libera di mostrarsi con il suo nuovo amore, ma perché non farlo? E che fiamma, perché il suo nome è Bastian ed è un imprenditore tedesco dal fisico possente, e ho detto tutto. L'uomo vive a Francoforte e sembra proprio che la relazione sia abbastanza recente. Eh sì, infatti il titolo di chi dice addio Francesco Totti. Eh, ormai possiamo capire che è capitolo chiuso. E non si conoscono proprio tutti i dettagli di questa nuova relazione, ma è chiarissimo che la Blasi stia andando in qualche modo avanti. Un aspetto su cui ha enormemente puntato ed effettivamente voleva allontanarsi già da Francesco, dal suo passato, da Noemi Bocchi, no? E la somiglianza poi non l'ha mai resa troppo felice. Quanti? Quanti gli hanno detto mamma mia la copia di Ila di Blasi? Tanti. Naturalmente è impossibile non fare un paragone tra lei e Diletta Leotta, ad esempio. Ambe due hanno ceduto al fascino tedesco, ecco perché. Tra la conduttrice sportiva e Loris Carius infatti le cose vanno a gonfie vele, tanto che lui l'avrebbe addirittura presentata in famiglia. Anche per la Blasi si prospetta un futuro tanto rosio, perché no? Non gli manca nulla a lui, è sempre un bel tedesco e quindi ha tutte le carte in regola. Ma del resto Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno fatto la loro prima uscita ufficiale, se l'hanno fatta sul red carpet dei Globe Soccer Awards di Dubai. Era soltanto questione di tempo, signori, ormai le carte andavano scoperte. Anche la Blasi sicuramente merita di ritrovare la propria felicità, di innamorarsi ancora di nuovo e così, così, fa calare il sipario su una delle storie più seguite del mondo dello sport, quella di Francesco Totti e Ilari Blasi. Questo cari amici è tutto per quanto riguarda questo video, io vi ringrazio per l'ascolto, se volete potete condividere questo video e lasciare un bel supporto per questo canale o questa pagina. Vi aspetto sia su FB che IT. Ciao!